Prima novità del 2022 per la scuderia Biella Corse. Il giovane pilota novarese Mattia Menegaldo farà parte del neonato junior team della scuderia e prenderà parte all'edizione 2022 del trofeo Toyota Yaris K. La scuderia ha già preso parte con il novarese Federico Romagnoli all'edizione 2021 del trofeo, sarà infatti al via anche in quella di quest'anno e con più di un equipaggio. Spiega il team manager di Biella Corse Alberto Negri. Oltre a raddoppiare triplicheremo perché oltre a Federico Romagnoli che molto probabilmente ripeterà l'esperienza in attesa di conferma ci sarà infatti anche il giovanissimo Menegaldo con l'obiettivo di fare esperienza e visto che è un classe 2001 di dire la sua anche nella categoria under 23. Lui è di Massino Visconti, piccolo centro del novarese a ridosso del lago maggiore. Classe 2001 come detto ha debuttato nel mondo del rally già l'anno scorso. La sua è stata una stagione a dir poco impegnativa. Ha preso parte con Peugeot 208 al Motor Rally Show a Pavia, il rally delle Grappolo, quello di Alba, il Lana, il Città di Torino e al Rubinetto, oltre a quello di Modena e infine allo Special Rally Circuit di Vedovati Corse, sempre con buoni piazzamenti di classe nella categoria under 25. Spiega il giovane pilota, nella Yaris Cup cercherò innanzitutto di fare una buona impressione. L'obiettivo è il titolo della categoria under 23, ma non mi dispiacerebbe appunto dire la mia anche per quanto riguarda la classifica assoluta. Mattia sarà affiancato dall'esperto Marco Amerio, navigatore astigiano attivo nel mondo del rally da quasi 30 anni. Con Marco fatto 6 delle 8 gare dell'anno scorso, aggiunge Menegaldo. L'ho scelto per questa avventura perché con lui mi sono subito trovato bene, un feeling davvero notevole. Mattia entrerà a fare parte del neonato junior team, aggiunge Alberto Negri, una realtà a cui teniamo molto e che abbiamo voluto creare nell'anno del nostro cinquantenario per valorizzare nuovi giovani talenti del mondo dei rally. Nella Yaris Cup la Toyota GR di Mattia Menegaldo sarà seguita tecnicamente dalla factory cuneese Miele Racing di Riccardo Miele, azienda specializzata nella preparazione e nel noleggio di vetture. Il main sponsor dell'equipaggio sarà invece il brand milanese Frankin.